Un po' di tremore Mamma mia, cosa c'è qua? Apriamo, apriamo Apriamo, apriamo Guardate cosa c'è Guardate la copertina Quella in 3D CD Bello Bello Ok Secondo DVD Mamma mia Guarda cosa c'è qua L'album delle foto Le apriamo dopo Bellissimo Bella E il doppio vinile Ragazzi Qua non sto più nella pelle Mamma mia Scusate ma adesso devo guardare Abbiate pazienza Grazie